Nel 2023 la Toscana si è classificata in terza posizione nazionale per numero di eventi estremi. Tra i più impattanti le alluvioni dello scorso novembre che misero in ginocchio la piana metropolitana con danni per 2,7 miliardi di euro e 8 vittime. Questa tipologia di avvenimenti oltre ad allagamenti e frane al tempo della crisi climatica è stata al centro della terza edizione del forum Acqua Toscana che si è tenuto alla borsa merci di Arezzo. Queste le procedure da adottare secondo lega ambiente toscana. Bisogna investire sempre di più nella prevenzione non nella riparazione dei danni perché ovviamente investendo in prevenzione e anche con meno soldi si hanno poi meno danni a valle. Prevenzione che significa appunto fino dalla pianificazione, corretta pianificazione, ridurre l'impermeabilizzazione del territorio, rallentare i deflussi delle acque fin dall'ambiente montano e collinare, giusta, corretta riqualificazione e rinaturalizzazione dei nostri corsi d'acqua e farsi aiutare nella natura per mitigare quindi anche il rischio sul territorio. Tra i relatori Gaia Checucci, segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale Appennino settentrionale che richiama l'attenzione sull'importanza della pianificazione anche alla luce del cambiamento climatico. Non considerare diciamo come principale misura della famosa strategia di adattamento la conoscenza e quindi la pianificazione e il doveroso come dire costante aggiornamento che noi facciamo significa poi di fatto contraddire il senso stesso della strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.